Un saluto a tutti voi dalla redazione Telemolise, ben trovati al primo appuntamento con la nostra informazione del mattino. Parliamo in apertura di sanità perché il primo provvedimento del direttore generale dell'ASREM, Lolita Gallo, che succede a Marinella D'Innocenzo, fa già discutere un provvedimento che riguarda una transazione di 23 milioni di euro pagati dopo il lavoro della Commissione che è stata incaricata per questo motivo. Sentiamo Pasquale Di Bello. In un solo giorno, lo scorso 17 marzo, l'azienda sanitaria regionale del Molise ha disposto la liquidazione di 23 milioni di euro a favore di fornitori dell'ASREM. Con 18 provvedimenti identici nella forma ma differenti negli importi, con una punta massima di 5 milioni e 900 mila euro liquidati ad un solo fornitore, l'azienda sanitaria ha preso atto e liquidato le transazioni gestite dal gruppo di lavoro presieduto dall'avvocato Demetrio Rivellino, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso. La gigantesca liquidazione è l'ultimo atto disposto dalla dottoressa Lolita Gallo come direttore del Servizio Programmazione Economico-Finanziaria del Servizio Sanitario Regionale. Lo stesso giorno, coincidenze della storia, il governatore Paolo Di Laura Frattura ha nominato Lolita Gallo, direttore generale della salute della regione Molise, in sostituzione della uscente Marinella d'Innocenzo, figura che con l'eccezione di Paolo Frattura nessuno in Molise rimpiangerà. La vicenda, quantomeno singolare rispetto alla tempistica, contribuisce ad irrobustire la cortina fumogena che si è addensata attorno ai debiti dell'Asrem e alla rinuncia al contenzioso da parte della regione a fronte di transazioni milionarie. Con un atto che ha sollevato un vespaio di critiche sulla sua opportunità, la Giunta regionale nel 2015 ha costituito un gruppo di lavoro incaricato di procedere alla definizione di accordi transattivi con i creditori dell'azienda sanitaria regionale, affidando la presidenza del gruppo all'avvocato Rivellino, anche scrissero Frattura e Soci in considerazione del ruolo istituzionale rivestito nell'ordine forense. Come se essere presidente di un ordine professionale fosse, a parità di competenze, un titolo preferenziale, concetto che lo stesso Rivellino avrebbe dovuto respingere, non fosse altro per ragioni di opportunità nei confronti di tutti gli altri colleghi che, non presiedendo nulla, sono altrettanto dei validissimi avvocati. Ma tant'è, questo è il Molise, una regione dove viene sparato un fumogeno al giorno perché la nebbia perenne nella quale viviamo ormai da quattro anni non abbia a scendere. Le domande sul gruppo di lavoro per le transazioni sono molte, a partire da quelle relative ai compensi spesi dalla regione per i suoi componenti, tra i quali è finito strada facendo anche l'ex Jeep di Mani Pulite, Maurizio Grigo, tutte cose che al momento non è dato di sapere. Sappiamo però con certezza che dopo il ruolo di presidente della FIM Molise e componente del CDA di Molise-Dati arriva per Lolita Gallo l'ennesimo riconoscimento, lo stesso giorno in cui, per una congiunzione astrale, prima di assumere il nuovo incarico, l'interessata firma pagamenti per 23 milioni di euro. Per la frana di Civita Campomarano c'è stato un vertice in prefettura a Campobasso per affrontare l'emergenza legata al vasto dissesto che sta colpendo il paese. Diverse case, sei finora le ordinanze disposte dal sindaco di Sgombero per altrettante famiglie. Al centro dell'incontro anche il trasferimento degli uffici comunali che si è reso necessario proprio in seguito ai danni riportati dal Comune che sarà trasferito nei locali che fino a qualche anno fa ospitavano gli uffici del giudice di pace. Oggi in tutto il mondo si celebra la giornata delle persone affette da sindrome di Down, iniziative previste anche in Molise. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Il 21 marzo è la giornata mondiale dedicata alle persone affette da sindrome di Down, una data che non è stata scelta a caso. Oggi è la dodicesima edizione della giornata mondiale che celebra la persona con sindrome di Down. Il 21 marzo non è una data scelta a caso ma vuole appunto ricordare il cromosoma in più che c'è nella cupia 21. Infatti la sindrome di Down è anche detta trisomia 21. Marzo è il terzo mese dell'anno e quindi il terzo cromosoma in più. Poi c'è appunto l'arrivo della primavera. Noi abbiamo scelto come target per questa edizione delle piantine, delle piantine che doneremo come simbolo dell'occuparsi e del prendersi cura, in questo caso della pianta, ma simbolicamente delle persone. Tutti hanno bisogno di essere curate. Ecco, sarete presenti un po' in tutte le piazze. Noi abbiamo anticipato l'evento della presenza in piazza già domenica, ma anche oggi avremo delle occasioni per parlare, per parlare sempre in maniera più dettagliata e in maniera scientificamente corretta, diciamo così, di quello che è la sindrome di Down. Vogliamo ribadire il concetto di maggiore sostegno, maggiore opportunità e soprattutto maggiore rispetto per queste persone. qualcosa sta cambiando, ma diciamo che ancora poco rispetto a quello che si potrebbe fare. Grazie a tutti. 21 marzo, giornata mondiale della sindrome di Down. My voice, my community. A Isernia i fedeli hanno salutato la reliquia di Padre Pio, che per giorni è stata ospite al Sacro Cuore. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Il lungo serpentone dei fedeli, illuminato dalle fiaccole, ha dato l'addio al cuore di Padre Pio, la reliquia che Fra Francesco Colacelli, Isernino, presidente dei cappuccini italiani, ha voluto portare nella sua città d'origine. Una reliquia così preziosa e custodita con il massimo zelo, che ha fatto solo altre due trasferte, in America e a Pietrelcina, paese d'origine di Padre Pio. È rimasta Isernia fino a domenica sera, quando è ripartita per San Giovanni Rotondo, ma il giorno prima, sabato, era stata portata in corteo, con le fiaccole, dalla chiesa del Sacro Cuore alla cattedrale, dove l'aspettava il vescovo di Isernia Venafro, Monsignor Camillo Cibotti, per l'ultima funzione religiosa, la messa d'addio alla preziosa reliquia. La fiaccolata è stata particolarmente suggestiva, partita dal Sacro Cuore alle 19 circa, dopo la messa, ha attraversato tutta la città, fino ad arrivare a Corso Marcelli, scendendo per arrivare alla cattedrale. Un corteo che ha visto la partecipazione di tanti fedeli, anche di altre città e regioni, fedeli che negli ultimi giorni hanno vistato il Sacro Cuore per avvicinarsi a Padre Pio, per una preghiera o per chiedere aiuto. Isernia ha così salutato il Santo delle Stimmate, molto venerato nel capoluogo Pentro, che ha avuto per il Frate Santo una particolare predilezione, anche grazie alla presenza dei Frati Cappuccini, che per Isernia hanno sempre rappresentato un valore aggiunto. Con la partenza della reliquia si è chiusa anche la missione popolare di evangelizzazione, organizzata in maniera egregia da Fran Nazario Asciarelli, il parroco del Sacro Cuore, che ci ha tenuto ad abbinare i due eventi, nel segno della fede e della vicinanza ai valori della speranza. Bene, ora passiamo alla rassegna della stampa. In apertura, il quotidiano online, il giornale del Molise, parla della transazione all'Asrem, colpo grosso in un solo giorno, liquidati 23 milioni di euro, e poi nel taglio centrale la frana di Civita Campomarano, la frana non si arresta, il comune trasloca, a Castro Pignano, la donna che si è gettata nel pozzo e che è stata salvata dai vigili del fuoco. Poi per il patto per il Molise arriva il ministro De Vincenti a Termoli, siamo a buon punto, il 2017, anno positivo per i molisani, ancora le truffe agli anziani e i furti in casa a Termoli, l'incontro su come difendersi, spiegato dalla polizia, e poi il riconoscimento alla Banca Popolare delle province molisane a cui è stato conferito il premio Menichella. Diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali, partiamo con Primo Piano che parla dell'arrivo a Termoli, in basso Molise, del ministro De Vincenti, patto per il mezzogiorno, De Vincenti promuove il Molise, l'agenda fitta per il ministro che a Termoli ha incontrato pure una delegazione di lavoratori della gamma, ad aprile la firma dell'accordo per l'area di crisi complessa, frattura entro l'anno, impegneremo tutte le risorse che il governo ha messo a disposizione, siete a buon punto, ha detto il ministro, sottolineando la concretezza operativa per quanto riguarda il patto per il Molise. Sul sistema salute ancora un nuovo attacco di Lucio Pastore che attacca il presidente della provincia di Isernia, su quale pianeta vivi, l'ex primario contro il vertice della provincia, nel taglio basso invece il premio Menichella alla popolare delle province molisane e per lo sport la sfida a Selvapiana contro la Fermana e il Campobasso, la società pensa alla giornata rosso-blu, la capolista contro uno dei team più in forma, il club pensa appunto alla giornata rosso-blu allo stadio. Vediamo il quotidiano, anche qui la scelta è per il ministro De Vincenti, patto per il Molise, lavori a buon punto e poi commissione tributaria del Molise con l'apertura dell'anno giudiziario ieri, l'aumento dei ricorsi per i bolli auto più 65%. Nel taglio basso la tragedia sfiorata a Castropignano cade in un pozzo salvato dai carabinieri e dai vigili del fuoco la cinquantenne non rischia la vita. Anche qui i richiami di sport sulla Serie D e poi il basket, la Dynamic Venafro, batte anche il porto Sant'Elpidio. Futuro Molise titola sulla ferrovia elettrificata tra Roccaravindola e Isernia, Scarabbeo chiederò a Nagni e Trenitalia di istituire una fermata dei treni elettrici veloci a Venafro. Poi il Molise rinnova la partecipazione al Provine di Dusseldorf, la più importante fiera dedicata al vino nel nord Europa e i costruttori del Lance a Nagni ancora una volta dimenticati di riattivare subito il comitato permanente per l'edilizia, sempre per la pagina del lavoro Gamma ITR al Ministro De Vincenti quando si ferma l'accordo di programma sull'area di crisi l'industriale complessa del Molise. Diverse le aperture sui quotidiani nazionali. Cominciamo dalla Repubblica che parte con il provvedimento del governo. Bonus mamma, regole confuse, ora è scontro tra Inps e Ministero. I ritardi sull'assegno, il primo anno di un bebè costa 7 mila euro, ma nel cassettone c'è la notizia delle scritte contro Don Ciotti in Sicilia, a Locri veramente, in Calabria, nella Locride dove è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha parlato contro i mafiosi. Don Ciotti sbirro, più lavoro meno sbirri a fronte allo Stato, via la polizia e Don Ciotti. Oggi invece poi la marcia di Libera, l'associazione del sacerdote staff Trump-Russia, relazioni pericolose all'esame dell'FBI, di spalla la politica estera con una nuova critica all'interno degli Stati Uniti al Presidente Trump e nel taglio centrale l'addio a Rockefeller aveva in tasca i segreti del mondo nel silenzio della notte, nella solitudine del castello costruito dal nonno, si è spento a 101 anni l'uomo che sapeva tutto e non diceva niente, il banchiere David Rockefeller, una figura quasi mitologica per il patrimonio familiare e personale a disposizione di quest'uomo. Vediamo dalla Repubblica il Corriere della Sera, apertura diversa, ma sempre nella politica interna, i 5 Stelle attaccano il Partito Democratico, il Movimento sale al 32,3% avanti di 5 punti, il massimo storico secondo i sondaggi e l'effetto scissione nei dem ma il Movimento Democratici e Progressisti è solo al 3%, il sondaggio Grillo a 0 e il dissenso dopo il caso Genova, chi non è d'accordo fondi un altro partito e poi Razzi, ne combina un'altra, è stato ricevuto da Assad, il tiranno siriano, su Twitter l'euforia del senatore ricevuto dal tiranno, un selfie con Assad, Razzi non fa più ridere. Il fondo di pane bianco, chi odia la società aperta, è dedicato ai populismi e infatti la vignetta di Giannelli è su Trump, si parla di questo parallelismo tra i populismi in Italia, in Europa e quello americano legato al neopresidente degli Stati Uniti. Vi faccio vedere Libero che apre con un'altra storia che ha fatto molto clamore nella serata di ieri, arrestano il cognato di Fini, in realtà è ricercato a Dubai per il riciclaggio, per la magistratura italiana è irreperibile, per lo stesso reato sono indagati l'ex presidente della Camera e la moglie Elisabetta Tulliani alla famiglia, sono già stati sequestrati beni per 5 milioni di euro, l'ordinanza a Gianfranco non poteva non sapere, l'accusa diciamo è riciclaggio, c'è in mezzo la faccenda delle slot machine, ma anche il lussuoso appartamento a Monte Carlo attorno al quale, scrive Vittorio Feltri, nel suo fondo, si sviluppò una polemica acida e infinita, poi si è scoperto grazie a una tardiva indagine della magistratura che avevamo ragione e torto l'allora presidente della Camera ci trattava come deficienti. Sfotte le donne dell'Est, un altro caso su cui si è discusso molto ieri, Perego sospesa dalla RAI, la conduttrice aveva stilato una classifica per la quale venivano indicati i sei motivi che dovevano indurre gli uomini a scegliere donne dell'Est come fidanzate ne è nato un putiferio la Magioni il presidente della RAI ha definito questo errore imperdonabile e Paola Perego è stata sospesa. Lasciamo libero e andiamo a vedere il tempo di Roma che sceglie la stessa apertura sulla vicenda di Fini e ora trema Fini manette per il cognato ma è irreperibile a Dubai i PM Gianfranco non poteva non sapere clan dei Casalesi un pentito parla di alleanza nazionale e di interesse per il business del gioco di Corallo spunta il giallo di una seconda casa a Monte Carlo e anche Lele Mora fonda un partito libertà e onestà sta finendo di scontare la pena punzecchiatura su questo titolo poi sempre nel taglio basso e una notizia che riguarda Roma presa la baby gang di Roma Sud terrorizzava da tempo il tuscolano 12 in manette 9 sono minorenni anche qui la vicenda di Paola Perego la RAI chiude il suo programma la Perego crocifissa per le donne dell'Est e dal tempo di Roma al messaggero altro quotidiano della capitale che invece titola sull'Alitalia senza accordo chiude vertice su Taglie e Suberi Calenda e Del Rio situazione drammatica si tratta a oltranza cancellati 201 voli per lo sciopero dei controllori taxi verso meno vincoli per NCC e Uber lasciamo il messaggero vediamo la prima pagina del quotidiano dei Vescovi l'avvenire via alla decrescita infelice una nuova apertura scelta dal giornale della CEI al consiglio permanente il cammino della CEI il cammino della chiesa sulla via di Papa Francesco e i nodi civili il presidente non si ghigliottina lo Stato di segno di legge sul fine vita troppo individualista l'antimafia di popolo che dà fastidio all'ocri scritte anticiotti dopo la mobilitazione oggi la marcia la fotonotizia e vediamo andiamo più a sud con il mattino che apre con una notizia che riguarda Napoli agenti feriti non alla solidarietà il consiglio comunale boccia la mozione di Forza Italia bufera sul sindaco caso Salvini De Magistris evitata una strumentalizzazione politica per Mara Garfagna pacifista ipocrita vediamo il titolo del manifesto che è una deserto libico via libera alla guardia costiera libica e ai campi dove rinchiudere i migranti al vertice di Roma sul Mediterraneo l'Europa torna a chiedere alla Libia di fermare i barconi ma per ora non mette soldi e il premier Sarrai a Tripoli resta sotto attacco armato delle milizie dal manifesto al quotidiano economico il sole 24 ore che anche in questo caso sceglie un'apertura diversa ed è la Brexit al via dal 29 marzo il Regno Unito ha fissato l'inizio dei negoziati il governo May per l'uscita dall'Unione Europea incognite per gli europei residenti nel Regno Unito a Bruxelles inizieremo subito a trattare l'obiettivo e chiudere entro il 2018 e per concludere vi faccio vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport Buffon va a mille venerdì in Italia Albania il portierone festeggia mille presenze con le prime squadre Scala lo lanciai a 17 anni fu lui a tranquillizzare me il portierone della Nazionale con tutti i numeri 612 partite nella Juventus 167 in Nazionale 220 con la maglia del Parma e poi le notizie di calciomercato che stanno catturando l'attenzione in questi giorni Berardi l'attaccante del Sassuolo vale 40 milioni il Sassuolo fa il prezzo Inter in Pol per l'asta poi Milan Juve e Viola e la Fiorentina l'altro caso di mercato riguarda invece il portiere il Milan Donnarumma spero di restare la palla a Raiola il suo manager Gigio fedele ai rossoneri a tutte le altre cose penserà il mio agente e infine da Belotti a Gagliardini sboccia la baby nazionale la svolta ventura il rinnovamento azzurro altro argomento su cui si sta parlando molto Berardino Graziano e Licari sono gli autori di questo servizio della Gazzetta dello Sport infine nel taglio basso Federer che avvio sono sorpreso anch'io a 35 anni è il più vecchio vincitore di un master ora è sesto nel ranking mondiale e in Formula 1 Wolf attacca nuove regole nate contro la Mercedes il capo della casa di Stoccarda la Ferrari si domanda la vedo sul podio già a Melbourne e con questa notizia ci salutiamo per la rassegna stampa l'appuntamento è come sempre domani mattina vi aspettiamo invece al primo appuntamento con la nostra informazione del Tg delle 14 per ora è tutto grazie e buona giornata